Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi su Gamsgo, la piattaforma legale e affidabile dove tu puoi comprare piattaforme streaming e soprattutto anche piattaforme dove ascoltare musiche come Spotify oppure programmi per lavorare su Office 365. Come puoi vedere qui io sto comprando la piattaforma Netflix, sto comprando i 3 mesi di Netflix, sono i 12 euro e 50 più il codice sconto da inserire, quindi questo è il codice sconto da inserire, il codice promozionale ci metti il codice. Una volta fatto ti daranno così le credenziali, un'email e una password, quindi questa email e password che puoi trovare direttamente sul tuo profilo Gamsgo, sui tuoi abbonamenti oppure te li manderanno direttamente per via email. Tu prendi queste credenziali e le metti su Netflix, quindi vai sulla pagina di Netflix e inserisci l'email e la password ed ecco lì qua i 5 profili condivisi, ovviamente tu dovrai cliccare il tuo profilo, clicchi così il tuo profilo e puoi goderti Netflix per 3 mesi. Quindi come funziona? In descrizione ti ho lasciato così la pagina di Gamsgo, clicca sul link, clicca sulla personcina qua sopra, poi accedi, usa il tuo account Google che è molto meglio ed è anche molto comodo. Una volta inserito così l'account, vai sul tuo account qua, vai su il mio abbonamento, come dicevo qua puoi vedere i tuoi abbonamenti ed eccolo qua. Ho questo abbonamento di Netflix che sta per scadere, il tempo rimanente 8 giorni, nome utente queste le mail che ti danno e poi c'è la parola d'ordine che ogni volta cambia però puoi sempre vederla qua sopra. Il tuo account rimarrà sempre qua e potrai usare quando vuoi, sulla piattaforma di Netflix. Su Gamsgo puoi comprare quello che vuoi, anche il chat GPT e Disney Plus. Il Disney Plus invece è quello di 25 euro l'anno, quindi più il codice sconto, poi c'entri a 25 euro l'anno. Per Netflix ora come puoi vedere iscriviti adesso è sempre fuori tutto, quindi il primo mese non c'è, il secondo mese non c'è, ci sono i tre mesi con un profilo condiviso, quindi seleziona, attiva un profilo condiviso. Un 10 euro al mese ovviamente è sceso di prezzo, quindi è sceso e mette anche il codice sconto per farlo scendere ancora di più. Come puoi vedere questi sono i clienti, gli utenti che sono riusciti a portare sulla piattaforma di Gamsgo e alcuni di loro hanno anche rinnovato così il proprio account. E hanno comprato Netflix, Disney Plus, Spotify e altre piattaforme, soprattutto anche Spotify per ascoltare musica. Quindi per altri problemi puoi commentare sotto al video, entrare nel mio server Discord e scrivermi in privato il nome è sempre TonyGamerG7 oppure scrivermi su Instagram. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!